Dobbiamo fare il là. Saremo un solo corpo risonante, questo è bello. Allora, aspettate un attimo. Bambini, mi sentite? Sì, bambini siamo noi. Chi è? Un problema telefonico. E allora, abbiamo anche un'orchestra, che è la Big Band 19 Elementi della Scuola di Donna Olimpia, pronti per fare il là. Al mio tre, anche voi si resta lì bello, vi prego. Forse è meglio se... Per un minuto, un minuto, bambini, dovete resistere. Non so l'audience come... Un secondo, due, tre. Questo è un là. Intanto, mentre loro fanno il là, io con una mia mega prolunga di 30 metri posso... Ma non interrompia il là. Pronto? Sì. Signora, lei qui sulla panchina, poi, è l'abbitante del quartiere. Faccio fare il là. Mi è contenta che qua vengono questi bambini a romperle le scatole? Vabbè, è un pannonello. È un pannonello. Ma le scuola? È un pannonello, ragazzo. Lei suona, risposta, è il campanello di casa. Signora, è contenta di questo evento nel quartiere di casa sua? Contentissima. Perché i bambini si divertono, cantano, suonano, sono stato contento. È come l'inno nazionale, si sta in silenzio sul grande larrizone. Un papà, un papà. Lei suona, cantano. Vai, là. 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 Ma ancora stanno facendo, ancora, resistono. È un minuto. È un minuto. Sì. Tu togli i cini dal mio filo. Ho una prolunga pericolosissima. Ma è là, non è la prolunga. Ancora, ancora. Bravi. Quella bambina ha la faccia agli occhi che le stanno uscendo dalle ordine. Ehi, immagino. Maestro. Quanto è? A quanto siamo? Ma siamo a tre minuti ormai, quasi. Li fermi, poverini. Basta, basta, basta. Bravi. Applauso. Applauso. Bravi. È stato bellissimo. Come sai, padre? Sei fiato ancora? Sì. Come ti chiami? Giulia. Da grande vuoi fare la cantante o la maestra di musica? La maestra di musica. Brava. Musica. Qual è il vostro modello? Non lo so, l'Oretana Bertè, la Fiera da Mannoia. Era andata bene fino adesso. Petra Magoni. Guardi, Troia, noi la ringraziamo, la lasciamo insieme ai bambini. Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio. Lucia Perruzzo, perdone che per prima. Vabbè, rigurati. Arrivederci. Arrivederci. Grazie. Intanto vi lascio sulle note della Big Band. Lei va davanti, come faceva Bob Messini. Va davanti, faccia finta che... Grazie, Troia. Arrivederci. Uniamo. Uniamo questo. La nostra inviata da Roma, Laura Troia. È stato bellissimo. Noi vorremmo, qua in studio, abbiamo partecipato in questo momento veramente drammatico di un grande là corpo risonante collettivo. Non abbiamo neanche mangiato le patatine, perché come eravamo presi, come contribuiamo, signora Magoni, come contribuiamo, signor Spinetti, a questa operazione sull'importanza della musica nell'educazione dei fanciulli? Beh, mi sembra bello fare un là qua. Facciamo il là qua. Riusciamo a fare anche un brano molto veloce? Un brano in là, però lo facciamo qua. Un brano in là qua. Dal vivo, da là, da Milano, Petra Magoni e Perruccio Spinetti. Bellissimo, bellissimo. Petra Magoni e Perruccio Spinetti in diretta, in esclusiva, con le patatine qua nei grandi festeggiamenti per l'assenza di Solibello, dalla sede Rai di Milano. C'è un nuovo disco che sta per uscire, fra un po', Petra e Perruccio. Un altro. Incredibile, sì. Un altro, non ne facciamo più. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.